Molto carini, grazie. Ok, adesso faremo un brano del 68 di Rolling Stones a Baggins' Banquet. Un brano non conosciuto ai più. Un brano un po' perverso. Il blues del Gatto Rantaggio. Ci siamo, Stryker Blues. Un brano un po' perverso. It's no hangin' on my top. It's no capital prime. But I can see that your feet keep in the zone. No, I don't want your ID. But I can see that you're so far from home. It's no hangin' on my top. It's no capital prime. Oh, yeah. It's 10 seconds. Oh, yeah. Don't you scratch like that. Oh, yeah. You're a stranger than a fan. Bet your mama don't know you can't spin like that. Bet your mama don't know you can't fight like that. Well, it looks so far from home. Why don't you really miss your mother? I don't know you can't do it. I'm a stranger than a fan. That's a cross. I don't know you can't do it. I'm a stranger than a fan. I'm a stranger than a fan. I bet you mamma don't know you can scream like that I bet you mamma don't know you can fight like that Take a new girlfriend and she's wiper than you Why don't you bring her upstairs If she's so wild that she can't join us too With no hanging on my car With no capital to cry Oh yeah No station back Oh yeah I'm too special back Oh yeah Don't tell you say that I bet I bet you mamma don't know you can scream like that I bet you never saw you scratch my back And it's... Grazie. Thank you. Adesso, come sapete tutti, immagino la carriera degli Stones ha percorso 50 anni fino adesso, anzi, si stanno fischiando stessi. Proprio l'anno si sta festeggiando il cinquantesimo. Una favola magica, quella dei Rolling Stones. E torneranno a suonare a Londra, a quasi 70 anni, tra quel settimana il 25 novembre. E noi ci saremo. Comunque stavo dicendo che la carriera è molto lunga. Adesso ci catapultiamo nel 1978 con un pezzo che è schizzato dritto al primo posto in tutto il mondo. Malgrado fosse in voga il pack da Disco Music. E gli Stones erano un po' considerati dei dinosauri, pensate già 30 anni fa. Ma con questo pezzo tutti a casa piangono. E un altro pezzo che è un po' considerato per la carriera. E un po' considerati di un po' considerato il mondo è un po' considerato che si sta fai per la carriera. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti